Ciao a tutti da Frank Bianconero, il mio commento verso la partita di domani sera tra Inter-Juve dove bisogna ammettere che è il primo Inter-Juve che io ricordo dal 98 in poi dove non c'è tanta polemica fuori dal campo, non si è intervistato Materazzi, non hanno intervistato Moratti nessuno ancora ha parlato di arbitri, di rubare così stranamente evidentemente Conte e Marotta oltre alla bravura nella loro mansione hanno portato forse un po' di stile, un po' più di equilibrio mentale perché è giusto che sia così se guardo la partita, leggendo i giornali, comunque le fonti di chi è vicino alle due squadre l'Inter dovrebbe giocare con Andanovic, tre soliti difensori, Skriner, Godin e De Vrij con D'Ambrosio e Asamoa in difesa perciò possiamo dire con l'Inter abbastanza coperta perché ora non mi venite a dire che è un gioco d'attacco se uno gioca con cinque difensori lo stesso faceva la Juve che se metteva, che ne so, Quadrado è diverso se metteva Liebsteiner sull'esterno come l'Inter è diverso se mette D'Ambrosio o Lazzaro o Politano o Candreva perciò stiamo parlando di cinque difensori quasi pure, anche se Asamoa ormai è dieci anni che più o meno gioca in quel ruolo perciò stiamo parlando di un Conte che se fosse questa la formazione comincia a pensare di non prenderle a centrocampo dovrebbe giocare Brozovic, Sensi e Barella anche se io penso che su Barella ci sarà una sorpresa di mettere a Vesino per avere un impatto fisico un po' più alto perché Vesino, essendo fin dalla giornata, sta un po' in forma anche fisicamente dà una mano questo ovviamente è il mio pensiero ma ora i giornali comunque danno come Barella titolare e in attacco dovrebbe giocare Lukaku e Martinez perché Lukaku era infortunato no forse no, non era infortunato diciamo hanno trovato una scusa per non portarlo a Barcellona perché come se fosse di vetro dovevano tenerlo per la partita della Juve come se fosse la finale mondiale perché alla fine è una partita come gli altri, può andare la Juve a più uno lì entra più cinque, possono restare più due perciò con trenta partite ancora da giocare, trentuno non l'ha portata a Barcellona perché ho paura, perché io poi la bisogna leggere, ho paura della Juve o perché pensa veramente che questo Lukaku, che a me piace ma non sarà mica ora un fenomeno però è una squadra quadrata, è una squadra tosta, è una squadra dove lascia pochissimi spazi pochissime possibilità di agire in contropiede o spalle alla porta mentre la Juve dovrebbe giocare con il codice fiscale in porta, come si chiama? Scesni, Quadrado, Bonucci, De Ligt, Alexandro, Mezzalcampo i soliti, Pjanic, Chedira e Matuidi anche se penso che anche qui forse non vorrei che mette di Rabiot non lo so perché io su questi presentimenti non vorrei che mette Rabiot al posto di Matuidi perché Matuidi quando fa ogni partita spende troppo giocare ogni tre giorni può essere negativo può essere negativo con Ramsey dietro le due punte, Cristiano Ronaldo e Higuain su questo oserei dire che gli avrei messo Di Bala solamente perché dal punto di vista tattico chi ha visto Inter-Lazio perché la partita è un po' quella più provante che ha avuto oltre a Barcellona, la partita più provante che ha avuto l'Inter in questo inizio di stagione si è fatta infilare un sacco di volte dietro le spalle di Brozovic perciò io avrei messo Ramsey Di Bala ai lati di Brozovic con Ronaldo a cercare di farlo centravanti o convincerlo in quella partita di farlo centravanti perché l'Inter ha preso un sacco di imbucate con Milinkovic e Correa soprattutto nel primo tempo con un buon gioco di Cainseido Higuain te lo fa il gioco ma è comunque più centravanti di Di Bala siccome non sembra che sta malaccio secondo me tra le linee l'Inter è una delle poche possibilità dove puoi trovarla non in posizione se visto anche nei due gol con Barcellona che a volte gli spazi tra Brozovic e difensori centrali sono un po' lunghi e non riesco né a chiudere né a corsare sugli attaccanti questo è il mio pensiero io quello che mi auguro è che sia veramente una bellissima partita 2 a 1, 2 a 2, 3 a 2, 3 a 3, 4 a 3 una partita scintillante che vinca il migliore ovviamente e non parlo sulla carta perché il migliore si sa chi è sulla carta ma bisogna vedere sul campo e dove mi sta piacendo questo clima di calma poi è normale che se l'Inter perde domani sera già ci sarà che il cartellino giallo non c'era che si è inventato quel fallo quel fallo laterale perché alla fine è sempre così è sempre colpa di qualcuno di qualcosa per alcuni però mi piace questa tranquillità e ripeto complimenti almeno a Marotta e Conte che hanno portato almeno un po' di tranquillità è un saluto questo sincero a Simoni perché poverino ogni anno di che entra Juve lo andava a intervistare e mi dispiace che quest'anno l'abbiano fatto solamente perché non sta bene di salute perciò mi dispiace auguro buona guarigione a lui perché come dico sempre il calcio deve essere passione divertimento, sfottò e niente più perciò buona guarigione a lui che si possa riprendere fino alla fine Forza Juve iscrivetevi al canale ciao da Frank Bianconero